Grazie. Signor Sofoli. Grazie, Presidente. Dopo anni di accesi discussioni sul futuro dei biocarburanti in Europa, il Parlamento europeo si appresta finalmente a votare un dossier che rappresenta comunque un segnale importante nella lotta al cambiamento climatico e per la promozione della Green Economy. Una vera crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva non può passare, come ora infatti, dalla produzione dei biocarburanti cosiddetti tradizionali, provenienti da culture alimentari che impiegano terreni che possono essere usati invece per produrre cibo, mentre nuova terra viene sottratta alle foreste aumentando la CO2. Al momento, visto le forti resistenze del Consiglio, si tratta del miglior accordo possibile, di un passo avanti verso obiettivi che in futuro dovranno essere più ambiziosi. La sfida dell'Europa, anche in vista dell'appuntamento di Parigi, è di rafforzare il proprio ruolo guida nella battaglia contro i cambiamenti climatici, promuovendo la Green Economy con politiche eque e sostenibili. Senza equità sociale e sostenibilità ambientale non si esce dalla crisi e non ci sarà nuova e buona occupazione. Grazie. Grazie. Signor Lenks. Grazie. 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 Grazie.